A Ginevra si svolgerà un'asta con oggetti appartenuti a Vittorio Emanuele di Savoia, il figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia. Non si tratta di beni di lusso, ma di oggetti di uso quotidiano, come un divano in ecopelle, piccole porcellane e due motociclette appartenuti al figlio Emanuele Filiberto. L'iniziativa mira a dimostrare che la vita in una famiglia reale non è così diversa da quella di molti cittadini. I circa 200 oggetti messi all'asta hanno un valore compreso tra i 100 e i 150 mila euro.